Musica Oggi voglio parlarvi delle fasi che ha attraversato Gesù prima della sua risurrezione Perché noi ci concentriamo, soprattutto quando è Pasqua, ci concentriamo molto sulla vittoria che ha avuto Gesù, sulla risurrezione Ma oggi voglio parlarvi invece del venerdì che ha trattato, che ha superato e ha dovuto attraversare Gesù Quindi oggi parleremo di venerdì santo o santo venerdì? Vi piace? Allora facciamo un applauso ai nostri ospiti, faremo un'intervista Accomodatevi Eccoli, tutti bellissimi, noi li scegliamo solo belli perché sennò ci fanno fare brutta figura E quindi vedete che sono tutti belli, ok? Tutti quasi sposato, fidanzato, single, single, quindi insomma, vabbè Ve lo dico, non si sa mai, va bene Allora, ragazzi, come state? Bene, tu dici vabbè Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di intervenire e voglio fare questa intervista con loro perché Parleremo di questo venerdì che ha dovuto affrontare Gesù e ho chiesto ai ragazzi di parlarci di uno dei loro momenti più bui Uno o il momento più buio della loro vita e vorrei iniziare da Esther, ci racconterà qual è stato il momento più buio della sua vita Vai Esther, vogliamo ascoltarti Ciao a tutti, io sono Esther Qual è stato il momento più brutto? È stato quando avevo dieci anni Mia madre aveva un cancro da un anetto ed era malata terminale Vivevo in Brasile E in quell'anno in cui avevo dieci anni è venuta a mancare Non sapevo cosa fare, non sapevo dove andare, avevo un padre molto distante da me E ho dovuto affrontare un altro periodo della mia vita Quando sono venuta in Italia ho cambiato completamente la mia vita e sono venuta con mia sorella più grande Quattro anni dopo è venuta a mancare anche lei, sempre di tumore Quindi credo che questi sono stati i più, i momenti più difficili per me Ma che hanno portato anche dietro tutto questo tanta sofferenza, tanti problemi in famiglia Che ad oggi lo vivo grazie a Dio, affronto grazie a Dio Cosa ti ricordi di quei momenti? Quali erano le sensazioni e le emozioni che provavi? Mi sentivo molto sola, era una cosa che dicevo sempre Soprattutto quando è venuta a mancare mia sorella, era praticamente mia seconda madre Io dicevo adesso io sono sola perché non avevo più i nonni, mio padre era in Brasile E il mio sentimento era Dio, io sono arrabbiata con te Perché hai fatto succedere tutto questo? Ho 15 anni, ho perso già mia madre e mia sorella e io non so cosa fare Sono sola, se tu non ci sei, se io non riesco a sentirti, come posso affrontare questo? Ci sono stati dei momenti di tristezza profonda? Sì, quando ho perso, stavo per perdere mia sorella Io non frequentavo molto la chiesa, sono sempre stata cristiana Ma quel periodo soprattutto per me era troppo difficile Non sapevo gestire la mia rabbia, la delusione Il fatto che sapevo che mia sorella era malata terminale E volevo isolarmi, volevo stare da sola Non volevo che nessuno mi chiedesse come stessa Io stessa mi sono isolata dalle persone Perché volevo sembrare la ragazza forte Ed è stato il periodo in cui proprio il diavolo ha sussurrato tante cose Nella mia testa di solitudine, di tristezza E io non mi sentivo in grado di gestire tutto Allora, lei l'ha raccontata in maniera molto veloce Ma in realtà la sua storia è una storia importante Cioè lei è venuta in Italia perché è venuta a mancare Prima sua nonna, hai saltato anche la nonna Prima la nonna qui era molto legata Dopo la nonna la mamma è venuta in Italia con la sorella Perché era sola lì in Brasile E qui in Italia poi è morta anche sua sorella Quindi essere veramente rimasta sola O meglio, lei pensava di essere rimasta sola Però a conti fatti Tutte le persone della sua famiglia a cui voleva bene Erano andate, erano morte Quindi lei oggi la racconta anche con disinvoltura Grazie a di oggi sta meglio, sta bene Però è una storia importante E per questo oggi li stiamo intervistando Perché vogliamo conoscere i loro momenti più bui Perché tante volte nei social, in chiesa, tra le persone Noi viviamo i momenti stellari e felici dell'altro E magari neanche sappiamo che è una ragazza di fianco a noi O Viaggio che è sempre lì a fare le foto O Timothy che è sempre lì sul palco O se è lì con i media E non sappiamo che Loro hanno vissuto dei momenti pesanti José, qual è la tua storia? Qual è il momento più buio? Allora, innanzitutto mi chiamo José Ho 19 anni, per chi non mi conosce Allora, diciamo che il momento più brutto della mia vita È stato quando sono arrivato in Italia Perché è stato un cambiamento di 360 gradi Da quello che conoscevo Ho letteralmente lasciato tutto quello che conoscevo Per andare a un paese dove non sapevo nulla Dove non sapevo la lingua Dove non conoscevo nessuno letteralmente I primi mesi non è stato molto duro Perché ovviamente non frequentavo la scuola Sono arrivato d'estate Quindi tutto ok Ma quando ho iniziato la scuola Ovviamente non sapevo la lingua I miei compagni Non so se grazie a Dio non mi bulizzavano Secondo me è stata una cosa molto ma molto più brutta È che mi ignoravano Sono stato quasi due o un anno e mezzo Ignorato per i miei compagni Io stavo tranquillamente Sei, sette ore senza parlare con nessuno Lì nella mia sedia Ascoltando le lezioni Imparando l'italiano Portando avanti me stesso Piccola parentesi In quel momento Ero molto lontano da Dio Sentivo che mi avevo abbandonato completamente Perché non avevo nessuno Anche se avevo la mia famiglia Anche se avevo i miei genitori Però diciamo che Il mio cervello diceva Non devi dare più problemi agli altri Perché avevamo anche una situazione economica Molto Debole per dire Non molto equilibrata Mio padre non trovava lavoro E quindi Dicevo Sono miei questi problemi Quindi non posso Caricare peso negli altri Per colpa di quello Sono diventato ateo Odiavo Dio Sapevo della sua esistenza Non ero agnostico Ma io lo odiavo completamente Dicevo C'è tu Che dicevi Mio figlio Mio figlio Mio figlio Mi hai abbandonato completamente E a chi è stato emotivo Ti ha portato questa situazione Cosa provavi Quali erano le tue emozioni In quel momento Cioè Hai vissuto un momento Di tristezza Di depressione Come potresti Chiamare quel periodo Allora Ovviamente Quello che provavo di più Era solitudine Perché anche se Avevo sempre la mia famiglia accanto Io sentivo che loro In realtà Non mi potevano aiutare In quel momento Ma Diciamo che anche A parte la solitudine Era mischiato con la rabbia Io Veramente ero arrabbiato Con tutti Per Nella situazione In cui mi trovavo Nel posto In cui mi trovavo Anche se nessuno Aveva la colpa Anche se la colpa Era di Di enti più grandi Che non conoscevo O di Forze che non potevo controllare Io ero completamente Arrabbiato con tutti Ma me lo tenevo da me E Secondo me Questo è stato Il problema più grande Posso fare una domanda Molto personale Sei libero Di non rispondermi In quel periodo Hai mai pensato Al suicidio? Sì Ma come In quell'epoca Anche se ero ateo Io avevo Molte conoscenze Della Bibbia Avevo molte conoscenze Di Gesù Di Dio Anche se ero un bambino Io sapevo di tutto Io sapevo che Se mi suicidavo Io andavo all'inferno E dicevo Non so cosa sarebbe stato peggio Se rimanere qua O andare là Però in un certo senso Stavi vivendo anche l'inferno Sulla terra Esattamente Ti sentivi incastrato Nei due mondi Che faccio? La sensazione che avevi Era come essere incastrato Esatto Non avevo una via di uscita Se posso raccontare una storia Molto ma molto piccola Io stavo Non faccio molti dettagli Io prima del covid Stavo per cadere in cometilico Perché sono andato con degli amici Che non erano amici E stavo per morire Letteralmente Perché dal cometilico È molto difficile da uscire E il giorno dopo Per farvi capire Quanto non mi interessava La mia vita Non me ne fregato nulla Cioè non mi interessava Mia madre mi diceva Stavi per morire Mia madre tutta stressata Mio padre che A momenti Stava piangendo Perché lui prova a essere forte Ma ovviamente Cioè suo figlio sta per morire A me non Il giorno dopo Come se nulla fosse Cioè non mi interessava per niente Quello era Il mio punto In quella situazione È molto forte La tua storia Tra un po' ci torniamo E ci racconti come ne sei uscito Ma voglio passare a Timoti Perché è una storia un po' simile Per certi versi Sì ciao Sì ho una storia Simile Nel senso che Da quando sono piccolo Sono sempre stato un po' Paffutello Un po' Cicciottello Adesso non si vede Non ti immaginiamo Oggi non si vede Ma il motivo per cui non si vede È perché lo sono stato Uno dei periodi più brutti Della mia vita In realtà è stato un lasso di tempo Abbastanza ampio Tutto il percorso delle scuole Praticamente Ho vissuto episodi di bullismo costante Su tante cose Sul mio aspetto fisico Sui tipi di interessi che avevo Ero musicista Un artista La gente giocava a calcio E io invece facevo i disegni Quindi non ero proprio La persona più cool della storia E sono stato preso in giro Picchiato Insultato E la cosa Diciamo più difficile Beh io sono una persona Molto sorridente Molto difficile Che mi vediate senza sorriso E anche in quel periodo lì Nessuno riusciva a togliermi il sorriso Ma era difficilissimo Perché era una maschera Spesso tornavo a casa Ed ero distrutto Tornavo a casa con i lividi Sulle braccia Come va? No tutto bene È andato molto bene A scuola Mia mamma mi raccontava Proprio qualche giorno fa Che spesso tornavo a casa Iniziavo a mangiare Mia mamma mi diceva Ma scusa ma non mangi a scuola Io sì sì però E poi si è scoperto Che invece mi rubavano il cibo Quindi io non mangiavo A scuola Ma per non dire niente Tornavo a casa E mangiavo quello che trovavo Ma ci sono stati tanti episodi Di questo tipo Solo che da fuori Io ero sempre super sorridente Anche a scuola Anche quando subivo queste cose Avevo sempre il sorriso sulla faccia Dicevo dai mi fai male Non è una cosa bella Oppure dai non è un bel gioco Ma avevo sempre il sorriso sulla faccia Quindi è stato un po' difficile Anche affrontarlo Perché il sorriso era per gli altri Ma era anche per me Quando ero da solo a casa Sorridevo Ma sapevo che in realtà Era un sorriso al contrario Dentro era molto brutta la situazione Perché spesso chi poi è vittima di bullismo Un po' come quello che diceva lui Si ha la sensazione di non voler dare questo peso alla famiglia Quindi tanti ragazzi spesso nascondono Che è la cosa peggiore Che invece bisogna parlare subito con la famiglia Con i professori Con tutti Con gli adulti Per farsi aiutare Quindi come hai gestito questo aspetto? Sì allora diciamo che è stata una roba Estremamente frustrante per la mia vita Penso che una delle sensazioni più brutte Che abbia provato Sia stata proprio la frustrazione e l'impotenza Arrivavo a casa e sapevo Che se ne avessi parlato con i miei Anche per come sono i miei Che mi volevano bene Ci tenevano Loro avrebbero sicuro parlato a scuola con qualcuno E se ne avessero parlato a scuola Per me sarebbe stato ancora peggio Quindi era frustrante Perché arrivavo a casa e non potevo parlarne E quando ero a scuola se ne parlavo Cioè era peggio Perché non solo ti prendevano in giro di più Ma rischiavi anche più botte Più schiaffi Quindi era un po' una trappola Perché non sapevi con chi parlarne Non potevi parlarne Tutto stava dentro Ed eri anche costrata a mentire Per non rischiare Mia mamma mi ha raccontato che C'è stato un periodo in cui Mi sono un po' più aperto E ho raccontato questa cosa Lei è ovviamente andata a parlarne con gli insegnanti Chiedendo discrezione E la preside è arrivata in classe Qualcuno mi ha detto che Quella persona lì Cioè volevo morire veramente Non c'è molta sensibilità su questo tema Anche tra gli adulti Soprattutto quando sei un ragazzino Non si capisce molto cosa stai vivendo E' stato brutto perché Io anche come lui Poi questo vi dicevo è durato tutte le scuole Quindi ero piccolo Ma piano piano sono cresciuto Io ero credente E quindi sapevo come lui Che se mi fossi suicidato Sarebbe andata peggio E quindi non potevo Allora pregavo Tutti i giorni dicevo Dai Gesù L'ultima notte E poi mi porti a casa Ogni sera andavo a casa E dicevo Che sia l'ultima Perché almeno Finisce Cioè chiedevi a Dio di prenderti Sì 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 Siccome sapevo che non potevo morire Volontariamente Allora chiedevo Allora fammi morire tu Così almeno Cioè finisce qua Vado in cielo e basta Però un ragazzino Per arrivare a pensare questo Sia in tutti e due i vostri casi Immagino il malessere Che sta provando E tante volte E' vero quello che dice Perché tante volte Noi non diciamo le nostre cose a casa Perché pensiamo No ma loro hanno già i loro problemi Non voglio Magari il mio problema è piccolo Rispetto a quello che loro stanno passando Però tutto questo malessere rimane dentro E ci fa molto male Quindi poi ci dirai anche tu Come ne sei uscito Biagio cos'è successo nel covid? Ciao past Ciao Ciao Ius Allora nel covid Io purtroppo ho avuto Una delle esperienze più brutte Della mia vita Ho perso mio padre E in pratica la cosa che mi ha fatto proprio male E perché voi sapevate bene Che in quel periodo c'era terrorismo no? Psicologico Quindi tu pensavi a quello che poteva succedere no? E quando ti arriva in casa Quella situazione Gestirla è veramente difficile Perché tu già sai più o meno Quella persona che trafila farà Infatti mio padre E' stato subito ricoverato Perché aveva Ha avuto subito dei sintomi forti E ha fatto tutta la trafila In tutto questo io ero a Milano Mia madre era giù anche lei positiva Però era a casa e grazie a Dio stava bene Quindi già almeno su quello Diciamo che la cosa che mi ha Mi ha fatto più male Sicuramente è vedere mia madre lì Impotente Io non potevo stare con lei Quindi non potevo incoraggiarla dal vivo Ecco non potevo abbracciarla Non potevo Però c'ero E un'altra cosa che mi ha Mi ha dato tanta pressione È il peso di responsabilità Perché non so per chi lo sappia Per chi lo sa Io sono figlio unico E mi sono gestito tutta la situazione Tutto E vi posso dire che non è semplice Parlare con i medici Tutti i giorni Parlare con i parenti Incoraggiarli E grazie a Dio ero già cristiano Già conoscevo Dio Perché non so come avrei fatto senza E ti trovi tu a incoraggiare gli altri Mentre poi sei il primo Che sta prendendo il carico di tutto E una cosa proprio che io avevo terrore Erano proprio le chiamate Perché purtroppo ecco In periodo covid Purtroppo noi non potevamo stare sugli ospedali Non ci facevano proprio entrare E la chiamata Il pre chiamata Era il momento di terrore Allora io provavo due emozioni Sono molto sincero Avevo molta fede Io speravo Io stavo pregando tanto in quel periodo Poi dopo magari vi racconterò meglio Come ho affrontato E in quel periodo Prima della chiamata Ero tanto speranzoso Io credevo che i dottori mi dicessero qualcosa di buono Però dall'altra parte La parte umana Aveva tanta paura Di una brutta notizia Perché era Cioè è stata una cosa molto Molto veloce In dieci giorni No dieci giorni Dieci giorni È stata tutta una trafila E poi quando è finita Nella parte La parte diciamo Dello stadio finale Dell'intubazione L'intubazione è un po' un gioco È un po' un 50 e 50 Molti ce l'hanno fatta Molti non ce l'hanno fatta Però l'intubazione Tu neanche più la videochiamata ci fai Io vedevo mio padre in videochiamata Là neanche più la videochiamata fai Quindi là veramente dici ok Siamo alla resa dei conti Dio all'ultima parola In quel periodo quali sono stati i tuoi pensieri ricorrenti? Ma guarda Pensieri Sicuramente ero molto Sentivo molta pressione Tanta pressione E io non lo so ancora come ho fatto Sicuramente pensavo A cose negative no? Pensavo alla morte imminente Pensavo a qualche altra cosa brutta Pensavo ad una reazione di mia madre Che magari sapeva del marito Che era morto e stava a casa da sola Pensavo a tante cose Però allo stesso tempo Io là proprio mi sono aggrappato a Dio E subito ho detto No io non voglio Io rifiudo questi pensieri E voglio venire subito da te Dio Perché tu puoi No? Darmi la forza che mi serve Infatti ti volevo fare questa domanda Poi lo chiederò anche agli altri Tanti nei momenti più bui Ci sono due strade davanti a noi Quella di cadere nel panico Nella paura E affrontare con paura la situazione Con rabbia Con rabbia anche nei confronti del cielo Di Dio e della fede O c'è l'altra strada Quella tu hai detto Hai usato questo termine Mi sono aggrappato di più a Dio Come hai fatto a superare E ad uscire da una situazione così difficile Ragazzi non so se vi rendete conto Ma tuo papà stava bene dieci giorni prima Dieci giorni dopo non c'è più E' molto pesante Com'è possibile Umanamente Uscire da una situazione di questo tipo E superarla? Allora umanamente Non si può fare C'è bisogno del cielo E penso che uno dei lati di Dio Che posso dire Di aver conosciuto E' la pace Cioè io credo di aver provato Proprio una pace sovrannaturale Io nel momento in cui Avevo questi pensieri forti Semplicemente dicevo Dio Cioè davo corda Perché poi umanamente Ti viene di dare corda No? Di stare lì Di pensare cose negative Ma allo stesso tempo dicevo Spirito Santo Io non voglio questi pensieri Io voglio credere Che papà starà bene Voglio credere che tu farei un miracolo E a prescindere da questo Questo è molto importante Io crederò che è la cosa giusta E' la tua volontà E quindi va bene così Io credo che Ci voglia molta sottomissione In quel momento Questa è una chiave importante Che mi ha aiutato A lasciare il controllo a Dio Letteralmente Cioè bisogna fidarsi Che comunque vada con le cose E Dio regna nella tua vita Assolutamente Sì, sì, sì Perché avevi dei pensieri Proprio Io penso che ci voglia coraggio Per farlo Io penso che non sia da tutti Penso che Ci siano due categorie di persone I coraggiosi Che dicono Io mi fido E lì credo che Subentri poi la grazia di Dio Che ti equipaggia Con la sua pace sovranaturale E poi c'è chi se la prende Si arrabbia Perché non ha il coraggio Di lasciare andare E quindi Sei stato molto coraggioso Timoti Tu come hai fatto invece? Sì Ho avuto una risposta Molto simile Nel senso I miei mi hanno cresciuto A pane e bibbia Quindi diciamo che I principi biblici Mi hanno sempre riempito Testa e cuore E quando sono entrato In quella situazione Ho pregato Ma così tanto Per dire Dio Ma com'è possibile? Cioè Alla fine sono un bravo ragazzo Faccio tutto Tutto bene Com'è possibile Che io viva Una roba del genere? Vedevo intorno a me Questa è una cosa importante Sembrava che nessun altro Vivesse questa situazione Cioè Com'è possibile Che sono l'unico Che viva sta roba Nonostante quello che sono E che faccio Poi in realtà Ho scoperto che tanti altri Vivevano situazioni simili Ma Che tutti come me Vavano il sorriso fuori E nessuno lo vedeva Però Quello che è stata la mia forza È stato dire Io credo così tanto Che Dio abbia il controllo Che sono sicuro Che a un certo punto Questa situazione si risolverà In un modo o nell'altro Per quello a un certo punto Pregavo Dio portami via Perché ho detto Non ho una soluzione E non ce l'avrò mai Non so neanche come fare Più che dire Le persone Cioè le persone Che facevano del male Guarda che mi fai male Ho detto Che devo fare di più Quindi Ho detto L'unica soluzione Che può esserci È Dio Sicuramente Infatti Se posso Mi posso raccontare C'è stato un episodio Che penso che sia stato Il culmine Perché Per me Ha ripagato Tanti anni Di sofferenza Ero al liceo Vabbè Al liceo Si sa Ci si fa un sacco male Anche perché Il modo di scherzare È molto più violento La forza è di più E quindi Automaticamente Ogni colpo È un colpo forte E c'erano Tante situazioni Era il periodo Dell'Arlem Shake Non so se chi se lo ricorda Ma c'era un macello In cui tutti picchiavano tutti E io spesso Era quello in mezzo Quindi Insomma Non era super piacevole Ma mi ricordo In particolare C'era un ragazzo A cui io voglio un gran bene Che però Aveva un modo di scherzare Con me Molto violento Molto molto violento Soprattutto poi Quando c'è il gruppo Uno tira l'altro Quindi Andava a finire Che io Che tra l'altro Ero abbastanza Esile Come costituzione Perché A un certo punto Della mia vita Ho smesso di mangiare Per perdere peso Quindi ero diventato Magrolino Come mi vedete adesso Quindi Insomma Una persona grossa Importante Che ti tira un colpo Lo senti tutto Però ho sempre risposto bene Sempre regito bene Perché nella mia testa C'era Se Gesù mi dice Di porgere l'altra guancia Io le porgerò all'infinito Cioè Non avevo Una via di mezzo Per me era Se il male Viene vinto dal bene Io risponderò con il bene Fine della storia Se Gesù mi insegna Siate umili e mansueti Io sarò umile e mansueto Non avevo un'alternativa Per me era O come Gesù O niente Non lo voglio Non mi interessa Quindi era molto radicata In me questa cosa E quindi ho sempre risposto bene E sempre reagito così E c'è stata una volta Il giorno prima Il giorno prima Mi ero fatto veramente Ma avevo la spalla Piena di lividi E stavo tornando a casa Con un'amica Che era la fidanzata Di questo ragazzo qua Noi eravamo amici Da un sacco di tempo E mentre chiacchieravamo A un certo punto Lei mi fa Guarda che lui Non è cattivo Non lo fa Perché ti odia Non lo fa Perché Perché ce l'ha con te È solo bullo Esatto E io ho detto No ma lo so Lo immagino Anche io gli voglio bene Non è una brutta persona Deve solo capire Come gestire Il suo modo di scherzare Che non è sempre Non è sempre piacevole Però gli voglio bene So che non è cattivo Bene Vado a casa Il giorno dopo Entro in classe La mattina Io e questo ragazzo Eravamo seduti agli antipodi Cioè io ero davanti E lui era in fondo Proprio in diagonale Entro in classe E lui mi guarda E mi fa Vieni qui E io col cavolo Dici oggi le prendo Cioè non vengo mai nella vita E lui fa No avvicinati Avvicinati C'era un sacco di gente E ho detto Mamma mia Iniziare così la giornata Proprio non mi va Però inizio ad avvicinarmi Lui fa Più vicino È un passo Più vicino Quindi io mi facevo con le mani La strada per scappare Ho detto Metti che mi alza le mani Io almeno mi faccio strada Tra i banchi E me ne vado Perché Cioè iniziare così la giornata Proprio non mi va Quindi alla fine Arriviamo vicini Come siamo io e Esther Più o meno Però uno di fronte all'altro Quindi ero lì Mamma mia Se mi tiene un pugno Mi prende sicuro Perché tra l'altro Era molto alto Quindi aveva le braccia lunghe Ho detto Non sono in un campo d'azione Questi pensieri tra l'altro Cioè Chi soffre di bullismo Li sviluppa in un nanosecondo Ve ne accorgete Perché hai campi d'azione calcolati Sai esattamente dove arrivano i colpi Tutte queste cose qua Quindi ho detto Mi prendi sicuro Mi faccio la strada Per poter scappare Questa persona si avvicina Mi fa Mi attivano sulla spalla Mi fa Cosa hai detto di me? Dio Mamma mia Ripenso nella mia testa Tutto quello che potrei aver detto di lui E io dico Guarda niente Non ho detto nulla E fa No no Invece mi aveva detto Che hai detto qualcosa di me Io faccio Guarda Non mi ricordo Non lo so E lui mi fa Mi ha detto Questa ragazza Che Che hai parlato bene di me E io ho detto Mamma mia E lui dice Ah Non pensavo Che te l'avesse detto E lui mi fa Grazie Grazie per quello che hai detto E da adesso in poi Chiunque vorrà farti qualcosa Dovrà vedersela con me E No è vero E la cosa assurda È che è stato così Cioè Quando ci sono stati episodi O occasioni In cui Qualcuno ha iniziato a minacciarmi Lui veniva E si metteva in mezzo E diceva Lui è il mio protetto Non puoi toccarlo Se vuoi fare qualcosa Te la prendi con me Ma questo era un armadio Cioè Quindi Io sono arrivato a casa E ho detto Gesù Ogni mio singolo sforzo È stato ripagato Come mi avevi promesso Cioè Questa è la fede Io faccio 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 Perché so Che a un certo punto succede Ed è successo È vero Ma poi è pazzesco Come Dio ha smosso gli ingiusti A favore dei giusti Quindi È vero La situazione in cui eri A quell'età A quel tempo Ti sembrava complicata E ingestibile Ma Dio ha smosso Un ingiusto A tuo favore E secondo me Quello è il miracolo più grande Perché È una soluzione Che tu neanche ti aspetti Esatto Tu stesso dicevi Dio non c'è soluzione L'unica soluzione Che mi prendi E vedi poi Dio invece Ribalta le situazioni A favore dei suoi E questo è bellissimo Esther La tua storia è da film Da libro Oggi l'hai raccontata veloce Però Un giorno scriveremo un libro Come hai fatto tu? Cioè Veramente È veramente difficile Tu come hai fatto? Allora Partiamo Del presupposto Che era una situazione Che avevo già vissuto No? Quindi Con mia madre Avevo già vissuto Ma mia madre È stato tutto Molto veloce In un mese È venuta a mancare Abbiamo scoperto Che era Quarto stadio Ok Non c'è più niente Da fare Avevo dieci anni Ok Tra un mese Tua mamma muore Ed è successo È andato così E invece Con mia sorella C'è stato tutto Un processo Perché avevamo già vissuto Quello Con mia madre In più Sei sola Non hai da chi Correre O chiedere aiuto Il fatto Che hai una famiglia Disfunzionale Perché nonostante Questo La mia famiglia Sia qui in Italia Sia in Brasile Era tutta disfunzionale Non avevo più rapporti Con i miei parenti In Brasile Oppure La maggior parte Erano venuti a mancare Quindi io Chiedevo a Dio E dicevo C'è stato proprio Un episodio In cui Era stato il giorno Che lei ha scoperto Di avere il tumore Perché lei ha avuto Tante perdite E lei è rimasta Incinta In un modo Miracoloso Perché Lei non doveva Rimanere incinta Era per lei Era impossibile Rimanere incinta E È stato proprio Quel giorno In cui lei ha avuto Tante perdite E io ho detto Basta Ha perso la bambina E invece ci hanno detto No Guarda che la tua sorella Ha un tumore Stato avanzato Morirà E Quel momento Io Mi sono Chiusa in bagno Ero da sola Piangevo Piangevo E dicevo Dio Dove sei Dove sei stato Tutto questo tempo Non è bastato Quello che ho vissuto Con mia Con Mia madre Devo vivere anche Con mia sorella L'ultima persona Che mi aspetterei mai Mia sorella aveva 32 anni E Piangeva E dicevo Dio Io ho solo te E adesso è il momento Di farti vedere E in quel giorno Quella sera Mi ha chiamato Il mio Era il mio mentore Sara Stella E ha detto Dio mi ha detto Che io devo venire da te Perché stai male Come fa a sapere Non venivo più in chiesa Non frequentavo più nessuno E da lì è iniziato Un processo E ho detto Dio Io non ce la faccio Da sola E a volte Io Veramente Non mi fidavo Di Dio Non mi fidavo Che c'era Non mi fidavo Che era capace Di trasformare Tutto questo In qualcosa di buono E ho detto L'unica cosa Che puoi fare E mettermi persone attorno Ed è stato proprio Quando Ho vissuto I ragazzi I teens E forse All'ultimo mese Della malattia Il pastefi Ha conosciuto La mia storia Ha saputo La mia storia Perché io non mi Esponevo Io tenevo tutto dentro E dicevo Come dicevo prima Io devo essere forte Ma In quell'anno Io ho capito No Io non riesco Ad essere forte da sola Se io non ho persone Attorno a me Che mi aiutino Persone che mi portino Più vicino a Dio Persone che Mi riportino A fidarmi di Dio Cosè Tu invece Come ne sei uscito? Allora Da me è un poco diverso Perché Come ho detto prima Non Non volevo Niente a che fare con Dio Proprio Niente Cioè lui Io lo volevo a lui Proprio Dall'altra parte del mondo Se potevo Lo portavo fuori Dalla galassia Cioè proprio Non lo volevo manco vedere E quindi Allora io Ieri quando mi hanno detto Io stavo ragionando E dicevo No ma io Cioè dicevo Anche ora Dicevo No ma io sono uscito Diciamo Da quella situazione Da solo Ma Secondo me Dio non mi ha mai Abbandonato Cioè lui Anche se Io L'odiavo Anche se Io Le avevo dato le spalle Anche se Io avevo fatto Tutto quello Che avevo fatto Tutto quello Che avevo detto Lui ancora Mi stava Mi stava proteggendo Tutto quello Che Anche Perché Io sono Cioè vi faccio capire Io ho cambiato scuola Perché io Perché anche Gli insegnanti Mi odiavano Cioè io non potevo Manco superare gli esami Per farli capire Io Già Il terzo mese Sapevo parlare l'italiano Lo capivo Tutto ok Mi hanno rimandato D'italiano Cioè non mi volevano Far passare avanti Mi hanno rimandato Con il massimo di materie Così La professoressa di matematica Non mi faceva passare Così Cioè mi volevano Mettere lì In una gabbia In modo tale Che io non possa Neanche andare avanti Ne andare indietro Ne muovermi Quindi ho detto Io cambio scuola Però Una persona normale Cioè anche mio padre Mi ha detto Io non avrei mai Fatto quella scelta C'è anche in tutta Quella situazione E quindi io dico È stato Dio Perché io Non sarei stato capace Di fare quella scelta Solo Anche se Io lo rifiutavo Lui era lì con me Bellissimo Bellissimo Ragazzi In una parola Un consiglio Per chi sta attraversando Un momento buio Una parola Due Dura Dura Forte Coraggio Bello Essere Io Rete D'appoggio Bellissimo Sì Parleremo di questo Davvero una parola O due Due Tre Se non riesci Tre Non di più Per me Cioè può essere scontato Però Gesù Fidati di lui E basta Bellissimo Abbracciati la croce Dai Stupendo Facciamo un applauso Ragazzi Grazie Ragazzi Siete degli eroi Grazie Dai Bellissime Queste storie Mi portate Anche il bidoncino Così Biagio Rimani qua Che dobbiamo fare Un esempio Un attimo Che cos'è questa? Una tazza? Sicuri? Ok Biagio Vieni qua tu Nel frattempo Che loro portano Il bidoncino Adesso Io e te Ci urteremo Noi stiamo Passeggiando A un certo punto Ci urteremo Anzi Tu mi urterai Attenzione Perché io potrei Reagire Prometto che non Reagire Non devi reagire Non devi reagire Non devi reagire Ok Vai Mi urti Ok Grazie Viaggio Mi ha urtato E poi Ne pagherà Le conseguenze Però A parte questo Cos'è uscita Dalla tazza? Ok Prendeteli Vi è arrivato In testa? Ok Guardate Vi do anche L'indor Perché Dalla mia Tazza È uscito Qualcosa Perché? Perché qualcuno Mi ha urtato Quindi perché Qualcuno Mi ha urtato Dalla mia tazza Sono usciti Cioccolatini Giusto Sì o no? Sbagliato Dalla mia tazza Sono usciti Cioccolatini Perché nella mia tazza C'erano cioccolatini Se ci fosse stato Caffè Sarebbe uscito Caffè Se ci fosse stato Tè Sarebbe uscito Tè Se ci fosse stato Fango Sarebbe uscito Fango Se ci fosse stata Melma Sarebbe uscita Melma Quindi Dalla nostra tazza Uscirà Quello che abbiamo Dentro E il venerdì Buio Oggi Voglio parlarvi Di questo venerdì Esattamente questo Significa La vita A un certo punto Ti urterà Ci saranno Momenti difficili Nella tua vita Per alcuni Sarà Il bullismo Per alcuni La perdita Per alcuni Il distacco Per alcuni Essere lasciato Dal fidanzato Per alcuni Una malattia Per alcuni La depressione A un certo punto La vita ti urterà E uscirà Qualcosa Da te Ma quello che uscirà Sei tu A deciderlo Perché Oggi Impareremo La vita Di qualcuno La vita Ha urtato Gesù Nel momento Più buio Della sua vita Lui è stato Messo sulla croce E ha dovuto Affrontare La crocifissione La vita L'ha urtato E sapete Cos'è uscito Da lui La tua salvezza E' uscito amore E' uscito un piano Per salvare L'intera umanità E quindi oggi Noi vogliamo Imparare Da chi E' uscito Ed è uscito Vincitore Nel momento Più buio Della sua vita Amen Vi piace? Quindi il titolo Di questa giornata È Venerdì santo O santo Venerdì Quando è che passa Sto venerdì E vedremo Qual è la differenza Perché voglio parlare Del venerdì Perché La morte E la risurrezione Di Gesù È avvenuta In quanto tempo? In tre giorni Il venerdì Il giorno della morte Della tristezza Il sabato Il giorno della confusione Della disperazione E la domenica Il giorno della vittoria In cui lui è risorto E ha ottenuto vittoria Nella sua vita E tu Io non so In quale fase Della tua vita sei Magari sei Nel venerdì Nel giorno più buio Della tua vita Magari sei nel sabato Nel giorno in cui Sei confuso Non sai cosa sta accadendo O magari Gloria a Gesù Sei nella domenica Nel giorno della vittoria Ma oggi voglio parlarvi Del venerdì Di cosa fare Quando siamo Nel momento più buio Della nostra vita Guardate Prima Pietro 2.21 Dice così Infatti Infatti a questo Siete stati chiamati Perché anche Cristo Ha sofferto per voi Lasciandomi un esempio Perché seguiate Le sue orme Gesù Ha sofferto per noi E ci ha lasciato Un esempio Di come Superare La sofferenza Prima Osei ha detto Una cosa importante Ha detto Io credo Che Gesù fosse là Non è io credo Che Gesù fosse là Gesù era là Perché noi Tante volte Nei momenti bui Diciamo Ma dove è Gesù Dove è Dio In questa situazione Dio dove sei Mi sembra che sei Lontano da me Mi sembra che Non stai capendo Quello che mi succede Nella vita Ma la Bibbia Dice che Gesù In ebrei Ha sofferto Come noi Guardate Leggiamolo Dice così Vediamo se ce l'abbiamo Dice Infatti Non abbiamo Un sommo sacerdote Incapace di soffrire Con noi Nelle nostre miserie Anzi Il nostro sommo sacerdote Comprende Le nostre debolezze Perché ha avuto Le nostre stesse tentazioni Anche se non ha mai peccato Quindi Tutte le volte Che stai attraversando Un momento buio Non pensare Gesù dove sei Tu non capisci Perché la Bibbia Dice che lui Lui capisce Lui capisce Ha sofferto Delle tue stesse tentazioni Quindi Oggi dobbiamo capire Che Gesù Ha sofferto Come noi Ha sofferto Per noi Ma Gesù Soffre anche Con Noi Perché nel momento Più buio Gesù è con te Gesù è accanto a te Ci sono situazioni In cui Per te Per te Sulla croce Perché Perché la morte In cui si potesse Una delle morti Una delle morti più tragiche In assoluto Guarda Immaginate un attimo Secondo Sentire il peso Grazie Matteo 26 Com'era Facile Si è circondato Di persone Guardate Prese con sé Pietro e due figli Di Zebedeo E li portò Quindi Cosa Cosa fece Prese con sé Le persone Di cui si fidava E che gli volevano Bene Pensate Persino Il figlio Di Dio Nel momento Più buio Della sua vita Ha cercato persone Che stessero Con lui E' quello Che facciamo noi Sì? Ha detto Ester Prima Ed è anche Il consiglio Che vi ha lasciato Fate rete Fate rete Vi ha detto Perché? Perché lei era piccolina Quando le stava succedendo Tutto questo Era poco più Che pre-adolescente Adolescente Poi quando è successo Della sorella E lei Inizialmente Ha fatto l'errore Di chiudersi Di chiudersi Ed è l'errore Che facciamo tutti Quando attraversiamo I momenti più bui Della nostra vita Noi ci isoliamo Noi ci isoliamo E' la cosa che facciamo in automatico Ci isoliamo Vogliamo stare da soli Non vogliamo vedere nessuno Siamo soli Esattamente il contrario Di quello che ha fatto Gesù Era il momento più brutto Più tragico Più doloroso Della sua vita E lui prese i discepoli E chiese loro di stare con lui Prese i discepoli Chiese loro di stare con lui E di vegliare Quindi prima cosa Crea rete di persone Attorno a te Io credo che La nostra chiesa E' una delle poche Solitamente il contrario Che ha più gente Nei life Che il sabato Perché è questo Questo è fantastico Io amo questo Anche se Insomma dovete venire Alla use night E' fondamentale che veniate Perché possiate Fluire E seguire con noi L'unzione della chiesa L'unzione di quello che Dio Ha preparato per voi Però questo è magnifico Perché significa Che amate stare con le persone E noi dobbiamo Stringere relazioni In una città Che non spinge le relazioni Noi dobbiamo essere Intenzionali Nell'avere relazioni Dobbiamo Sforzarci Quando stiamo male Di aggrapparci Alle persone E di lasciare Che loro ci aiutino Lasciamo che le persone Attorno a noi Ci aiutino Ah ma non ti vedo più Come stai? Bene E te ne vai Non fare questo Perché Gesù guarda La seconda cosa che fece Guardate Ora ve lo dico Però guardate questo verso In Galati Dice Aiutatevi nelle difficoltà E nei problemi Ubbidirete così Alla legge Di Dio Quindi Gesù Fece questo Ha cercato Supporto Ha cercato Supporto Nei discepoli Poi loro si sono addormentati Ma quello è un altro Conto Non 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 fa niente Se i tuoi amici Poi si addormentano Però tu hai fatto La cosa giusta Poi lui ha fatto Un'altra cosa Dice Che la Bibbia dice L'anima mia È oppressa Da tristezza Mortale Rimanete qui E vegliate Con me Tante volte Quando ci chiedono Come siamo Noi rispondiamo Sto bene Sapete perché Facciamo questo? Perché noi Speriamo Che l'altra persona Si accorga Che siamo male Sapete Gesù Perché invece Ha detto Sono oppresso Da tristezza Mortale Perché lo sapeva Che non ci sarebbero Mai arrivati Quelli Capite? Però è True story E succede così Noi Dobbiamo Dirlo Quando stiamo Male Non aspettiamo Che gli altri Ci arrivano Lo dico da amica Non ci arriveranno Non ci arrivano Non è detto Che l'altro ci arrivi L'altro non può Saperlo Ragazzi Io ho imparato Questo Troppo tardi Nella mia vita Troppo tardi Io ho fatto Tutta l'adolescenza Pensando che gli altri Potessero capire O che i miei problemi Erano i più piccoli Del mondo Non c'è un problema Troppo piccolo Troppo grande C'è il tuo problema E nessuno può discutere Il tuo problema Ma devi esprimerlo Se non lo esprimi Gli altri Non lo capiranno Hai un concetto Troppo alto Delle persone Non lo capiranno O non è detto Che tutti Lo comprendano Quindi siccome Non è detto Prenditi quello Che ti serve Gesù si è preso Quello che gli serviva Gli serviva compagnia Se l'è presa Gli serviva Scaricare Le sue emozioni Se l'è preso Ha detto Sono preso Da tristezza Mortale E poi Ha fatto Un'altra cosa Fondamentale Che non sappiamo Fare bene Ha dato un nome Alle sue emozioni Sono preso Da tristezza Quando noi Stiamo troppo male Sappiamo che C'è un gomitolo Nella nostra testa Ma non sappiamo Dargli un nome Ed hai mai parlato Con qualcuno Che sta male E tu gli dici Cos'hai Non lo so E vabbè Ma perché sei male Non lo so E vabbè Ma dimmelo Cos'è successo E lo so Ma io non lo so Ma che sei successo Solo che sto male Ok Alcuni ridono Ok Quindi Perché facciamo questo Perché quando stiamo male Non sempre riusciamo a dare un nome Alle nostre emozioni Ma noi dobbiamo imparare A farlo Per imparare a sgomitolare Quello che c'è nella nostra testa Perché questo ci darà chiarezza E ci aiuterà Ad affrontare Quell'emozione Quella sensazione E quel gomitolo Prenderà Diventerà un filo E prenderà Il proprio posto Quindi Cosa ha fatto Gesù? Ha cercato amici Ha fatto una rete di persone Che gli volevano bene Ha espresso Le sue emozioni Ha dato un nome Alle sue emozioni E adesso guardate Ha fatto Un'altra cosa E lo troviamo In Marco 14 35 36 Dice così Andato un po' più avanti Si gettò a terra E pregava Che se fosse possibile Quell'ora passasse da lui E diceva così Abba padre Ogni cosa ti è possibile Allontana da me Questo calice Però Non quello che io voglio Ma quello che tu vuoi Allora Noi cantiamo Abba Sono tuo figlio Bababà Che significa Abba? Cosa? Non significa padre Non significa Abba È un modo per Carino Per chiamare il padre Quindi come se fosse Papà È un modo più confidenziale Per chiamare il padre E Gesù stava dicendo Papà Perché stava dicendo papà? Quindi la terza cosa che fece Fu Cercare Dio Ok? Cercare gli amici Esprimere le proprie emozioni E cercare Dio Ma come ha cercato Dio? Non ha cercato Dio Andandoli A volte noi No Io sono nata in un contesto In cui le preghiere erano Cambiavi voce Non si sa perché Ma quando Pregavi Dovevi cambiare voce Se non cambiavi voce Non eri serio Ok? L'altro giorno Ho fatto sentire A mio nipote La versione drill Della canzone Che abbiamo cantato oggi Nessun principato Nessuno potessà Dico Guarda che io prego con questo E lui mi guana E fa Zia Ma guarda che la preghiera È una cosa seria Dico scusa Però Perché noi pensiamo Dio Cioè Bisogna avere una certa Sacralità E una certa formalità Per cambiare Dio Quindi io sono nata Per pregare Dio Sono nata in un contesto In cui Se tu non cambiavi voce Quando pregavi Non eri serio No? Quindi Signore Dio Dio altissimo Degli eserciti Su nel cielo Tu Nella tua grande misericordia Quello Cioè Nel frattempo Che tu stai pregando Si è già messo a fare Un'altra roba Perché l'hai perso Proprio Si è distratto Perché Anche Dio Insomma A volte Quando è tu maccio Troppo lungo Dice Vabbè Stringi Chi è Dimmi Amore mio Dimmi Cosa vuoi dirmi Dimmelo Veloce Vai che C'è tutto il mondo Da salvare Ok Quindi Se fossi io Dio Per quello che non lo sono Avrei grossissimi problemi Ad ascoltare Le nostre preghiere chilometriche Ma noi vi insegniamo La scuola biblica Che non si fanno Questo tipo di preghiere chilometriche Quindi Cosa fa Gesù? Gli dice Abba Perché Quando noi siamo In difficoltà Noi non andiamo In maniera formale Davanti a Dio Giusto? Non ci mettiamo La signore Tu che sei così buono In misericordia No No Eh Papà Ti prego Non ce la posso fare So troppo male Quindi vai da tuo padre Secondo Fai la preghiera Che Gesù ha fatto Nel Gezzemani Uno Vai da tuo padre E affermi la sua potenza Guarda Abba padre Ogni cosa ti è possibile Quindi quando Nei momenti più bui Vai da tuo padre Afferma la sua potenza Dio Io so Che ogni cosa Ti è possibile Secondo Allontana da me Questo calice Quindi Esprimi Il tuo desiderio E il tuo dolore Dio io so Che ogni cosa Ti è possibile Oggi voglio dirti Che non mi sento bene Perché mi è successo questo Perché i miei amici Mi hanno tradito Perché a scuola Mi bullizzano Sono in un momento Di crisi Di depressione Esprimi Come dico sempre io Vomita Le tue emozioni Se tu non vomiterai Alla presenza di Dio Le tue emozioni Rimarranno qui Rimarranno dentro E ti faranno male Quindi vomita Alla presenza di Dio Le tue emozioni Dio Sto passando Un momento terribile Penso che l'unica soluzione Sia Venire da te Dio liberami E poi esprimi Il tuo desiderio Per quella situazione Dio liberami Da questa situazione Io non so come farai Inventa qualcosa Ma liberami Da questa situazione E terzo e ultimo Che fece Gesù Alla fine Si arrese Alla sovranità di Dio Però Non quello che io voglio Ma quello che tu vuoi Offri a Dio La tua fiducia Perché è intelligente Fare questo Perché i piani Di Dio Sono molto più perfetti Dei tuoi Immaginiamo La storia di Timothy Se Dio Lui non sarebbe qui Ma affidare A Dio E dare a Lui Fiducia E autorità Significa Che i tuoi piani Sono migliori Dei miei I suoi piani Di liberazione Erano piani Assurdi Dio ha smosso Degli ingiusti Per salvarlo Da quella situazione Non c'è stato bisogno Che lui morisse Capite? Perché i piani I di Dio Sono migliori Dei nostri Quindi io Vado da Dio Ricordo la sua potenza Vomito Il mio problema La mia rabbia La mia frustrazione Chiedo Di risolvere Il mio problema Ma poi mi affido Alla sua sovranità E questo È quello che ha fatto Gesù Ed è così Che lui è uscito Da quella situazione Gesù l'ha tolto Dio ha tolto Il calice Da Gesù Dio E ha cambiato La situazione Per Gesù Sì o no? No Quando Gesù Ha fatto questa Preghiera Sapete qual è stata La risposta? Il silenzio Il sabato Il silenzio Tante volte Noi non abbiamo La risposta di Dio Per la nostra vita Dio non ha potuto Togliere quel calice Perché pensava A te A me Pensava Al piano meraviglioso Che lui aveva per noi Però vedete Gesù è morto Il venerdì È passato il sabato E poi è arrivato Il giorno della vittoria Quindi sì Forse stai attraversando Un momento complicato Della tua vita Forse questo venerdì Ti sembra che non passa più So santo venerdì Ed è così pesante per te Ma la Bibbia nel Salmo Dice Il pianto dura una notte Ma la gioia Viene al mattino C'è Forse stai attraversando Il venerdì Forse stai attraversando Il sabato Forse sei confuso Sei triste Non stai capendo Non senti la direzione di Dio Senti il silenzio di Dio Nella tua vita Ma ricordati Che domani è domenica Ricordati che la gioia Viene al mattino Ricordati che Dio Ha un piano di vittoria Per la tua vita E non ti lascia Nella situazione In cui sei Amen Vi voglio far vedere un video Sono qui Non sono andato via Non sono morto Né sono andato in pensione Proprio come migliaia di anni fa Sono in mezzo a voi Guardo questo mondo così pieno di male Alle persone che sono stanche di soffrire E che piangono dicendo Dio non esiste Si sono allontanati da me Dicono di non vedermi Ma i loro occhi sono chiusi Chiedono perché non riescano a sentirmi Ma hanno coperto le loro orecchie Ma io rimango qui Alle loro porte Ogni giorno Ogni minuto E in ogni situazione delle loro vite Instancabilmente Perché non volete farmi entrare Sono qui Sono vicino Vedo le vostre sofferenze Sento un disperato grido di aiuto E comprendo il vostro dolore Soffrite perché avete fatto degli errori Fate cose sbagliate Anche quando non volete farle Siete infettati dal peccato Dalla rabbia Furia Irritazione Sfiducia Codardia Tradimento È per questo che sono venuto Sono venuto sulla terra Per darvi nuova vita E nuova speranza C'era un prezzo Per i vostri peccati La morte E io l'ho pagato Sono morto affinché voi non moriste E sono risorto affinché voi possiate morire Sono qui Con le braccia aperte E ti aspetterò Fino al tuo ultimo respiro E io l'ho pagato Per i vostri peccato Nanoma